Buongiorno a tutti, sono le 7. Fatalmente in primo piano sulla maggior parte dei quotidiani c'è ancora una volta la scuola, il conto alla roescia che ci separa alla riapertura delle scuole, lo sapete il 14 settembre, ma potrebbe non essere così per tutte le regioni, lo vedremo poi nei particolari. La riapertura della scuola che diventa anche a tutti gli effetti terreno di scontro politico, nella bufera finisce la Ministra dell'Istituzione Azzolina che è attaccata da settimane dalle opposizioni, ma anche dalla maggioranza, da alcune forze della maggioranza, il PD in particolare, viene difesa dal Movimento 5 Stelle. Molti problemi sono stati risolti o superati per quanto riguarda la logistica della riapertura, altri rimangono invece da risolvere, come quello dei trasporti degli studenti e c'è poi il problema della mancanza di migliaia di docenti, visto che molti hanno chiesto di rimanere a casa. Poi ci sono i numeri del contagio. Qui occorre analizzare i dati, ovviamente c'è una nuova crescita dei contagi in Italia, ma crescono di molto anche i tamponi e quindi è abbastanza fisiologico. Si tratta di persone normalmente in età giovanile, asintomatici, quindi con pochi casi gravi, persone che rientrano dalle vacanze in generale dall'estero, ma anche da alcune regioni italiane, la Sardegna in particolare. C'è chi sta molto peggio di noi ed è la Francia che, pensate, ha nelle ultime 24 ore oltre 7 mila casi, tanto che il Presidente Macron non esclude un nuovo lockdown generale. Ma vediamo subito i giornali. Partiamo dal Corriere della Sera che in apertura ha proprio la notizia che vi dicevo, questa sulla Francia. Macron, chiusura possibile. In Italia contagi in lieve crescita. Per la scuola servirebbero 20 mila bus. Aumento esponenziale dei positivi. La Francia non esclude un altro lockdown. E vedete ora la foto. I camion dei soldati ora portano speranza nei comuni lombardi più colpiti dalla pandemia. Arrivano i nuovi banchi proprio in vista della riapertura delle scuole. Poi questa foto a centro pagina. Non voglio che la mia salute incida sulle decisioni politiche. A parlare è il Premier giapponese Shinzo Abe che per il troppo lavoro ha lasciato l'incarico ed è successo appunto ieri. Dal Corriere della sera passiamo a Repubblica. E anche qui abbiamo la notizia più importante. al centro della prima pagina. Torna il virus Parigi. Zona rossa. Record di nuovi casi in Francia. 7.379 Macron. Un altro lockdown. Mai dire mai. L'epidemia spaventa l'Europa. Sardegna. La procura indaga sui locali del contagio. I positivi rientreranno dall'isola con la protezione civile. Scuola stretta sui professori. È sentato solo chi ha malattie gravi. E poi c'è anche un sondaggio di cui dà conto Repubblica. Sondaggio della Demos. Effetto Draghi sui leader e gli elettori del PD divisi sul referendum. Passiamo alla stampa di Torino invece che ha un'apertura leggermente differente anche se sempre di Covid si parla. Unione Europea che annuncia vaccino entro l'anno. Lo fa la commissaria alla salute, la cipriota Kiriakides e dice il ritorno sui banchi non porterà nuovi casi. Intanto allarme Covid anche a Cortina. Rientro a scuola. Ecco le regole. Gli insegnanti che dicono in coro ci servono più tutele. Poi voglio far vedere questa foto prima della stampa. Il sacrificio di Ebru, vittima del sultano. È un attivista turco. Un avvocato turco che è stata incarcerata con l'accusa di terrorismo dal regime di Erdogan. È entrata in sciopero della fame ed è morta dopo 238 giorni. E poi il messaggero di Roma. Scuola, niente corsi di recupero. Falsa partenza per il rientro in classe. Non ci sono fondi per i prof. Restano i debiti formativi. Sì, ai bus pieni all'80%. si teme un boom di assenze tra i docenti. Quattro regioni riaprono dopo il 14, quanto vi dicevo appunto prima. E poi anche l'economia con il nuovo ennesimo attacco della Confindustria con Bonomi contro il governo. Gli sgravi al sud siano permanenti, ma ci sono anche altre accuse che la Confindustria muove al governo. Andiamo sul Sole 24 Ore. A proposito di Confindustria, si parla sì di scuola, 80 mila assunti, ma quelli veri saranno 25 mila. E poi si torna però sulla notizia che avevamo visto anche sul messaggero. Cioè Bonomi è il momento di riscrivere da zero le politiche del lavoro. Una lunga lettera inviata alle varie associazioni di Confindustria, quella di Bonomi, in cui Bonomi accusa sostanzialmente il governo di aver agito male in questi mesi così pesanti dopo la pandemia, dopo e durante la pandemia. È tutto per quanto riguarda questa prima parte. Breve pausa pubblicitaria poi di nuovo in studio. Buongiorno a tutti. Seconda parte della Rassegna Stampa proseguiamo con le prime pagine dei giornali. Vediamo quella del Fatto Quotidiano che ha questo titolo e questa doppia foto. Vedete Salvini da una parte, la Morgese, Ministro dell'Interno, dall'altra. Salvini, smentito, scrive il fatto, sono migranti solo quattro infetti su mille. I numeri dell'Eviminale, 1.218 positivi da Mars, è più facile contagiarsi a un suo comizio, a un comizio di Salvini, scrive il fatto, senza mascherine o nelle disco della Costa Smeralda. Dopo il Fatto Quotidiano andiamo invece sul giornale che ha naturalmente tutta un'altra impostazione e infatti parla di oltraggio alle vittime. Zingaretti senza vergogna, il leader PD shock, con Salvini e Meloni al potere, fosse comuni in spiaggia, ma fu il primo a sottovalutare il virus e ora lo sfrutta in chiave elettorale. Scuola, anche i DEM, ora chiedono la testa della Azzolina, Ministra dell'Istruzione. Andiamo sull'Avvenire invece, in cui si parla di migranti, ma con ben altri toni. Odissea dei respinti, scrive l'Avvenire. Leggiamo meglio i racconti dalla Libia, dei migranti catturati in mare e riportati nelle prigioni, torture e ricatti sotto gli occhi anche delle autorità, nuovi salvataggi e sbarchi. In un video le condizioni degli eritrei, in balia dei trafficanti nei campi e in Sicilia ancora veleni. E poi questa foto, a centro pagina, marcia a Washington, è la marcia contro il razzismo, 50.000 a Washington, impossibile non evocare la marcia di Martin Luther King di 57 anni fa, 28 agosto 1963. E poi anche qui si parla della dissidente turca morta dopo lo sciopero della fame, Ebru. Andiamo sulla verità. Mancheranno 400.000 insegnanti, scrive la verità, la denuncia del segretario della UIL scuola. Lavoraggine nel personale si aggiunge ai clamorosi ritardi per aule, trasporti e controlli sanitari. Ormai si parla apertamente di impossibilità di tornare a lezione il 14 settembre. Un fallimento da imputare a tutto il governo, non solo al ministro Azzolina. Dalla verità passiamo a Libero. Sarà una votazione, qui si parla di referendum, sarà una votazione pasticciata. Due italiani su tre ignorano il referendum. Il quesito sul taglio di deputati e senatori interessa. Solo i partiti che però sono in bambola. Esito scontato. Gli onorevoli saranno ridotti, ma nulla migliorerà, scrive Libero. Il Tempo, ira della Sardegna Sudamato, che è l'assessore alla sanità della regione Lazio. Il governatore Solinas, in un'intervista al Tempo, contro noi accuse false e vergognose. Altrove più discoteche. I test dovevano farli prima di venire qui e i capi del Lazio pensino ai loro aperitivi, dopo l'accusa appunto di essere degli untori, un tutti contro tutti, dunque Sardegna contro Lazio. Dal tempo passiamo anche a vedere le principali notizie dello sport sulla Gazzetta dello Sport. C'è ovviamente il calcio mercato, anche se per la verità anche il calcio è investito pesantemente dal Covid. Aumentano i casi di giocatori positivi, ad esempio nella Roma. Ma torniamo sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, Boom Boom Milan. Si parla di appunto calcio mercato, rossoneri scatenati, vicini a Tonali e a Brahim Dias. E poi intercasting per il centrocampo, cantè su tutti, nel mirino anche Thomas e Ndombele. E Juve in ritorno, chi era stato sacrificato un anno fa, Pirlo ora lo rivuole. Dopo le prime pagine passiamo invece alle pagine interne. E partiamo dal Corriere della Sera. E torniamo sui temi appunto di apertura, con i quali abbiamo aperto anche questa rassegna stampa, quindi parlando di scuola da una parte e anche di Covid e di pandemia dall'altra. Il Corriere della Sera ha questo titolo che fotografa la situazione attuale. Duello sulla scuola tra PD e Azzolina, le cinque regioni che vogliono aprire dopo. La ministra, partita che riguarda tutto il governo, l'esercito intanto porta i banchi ad Alzano, Nembro e Codogno, come sapete i comuni lombardi più colpiti a marzo e ad aprile. Vi dicevo che la scuola, la riapertura delle scuole sta diventando di fatto un terreno di scontro politico, con l'attacco del PD a Azzolina, il Movimento 5 Stelle che la difende, ma si parla anche per la verità di altro, come leggiamo in questo articolo a firma di Gianna Fregonare e Donatella Tiraboschi. Intanto aumenta, scrivono il numero di regioni dove si sta ragionando, se non sia più semplice e meno costoso, visti anche i ritardi nella preparazione delle scuole, rinviare l'avvio dell'anno a dopo il referendum del 20 e 21 settembre, senza dover cominciare a interrompere nel giro di una settimana. Hanno già deciso per ritardare Puglia, Calabria e Sardegna, ma ci stanno pensando anche il governatore dell'Abruzzo, Marco Marsilio, e quello della Campania, Vincenzo De Luca, dunque effettivamente sarebbero 5 le regioni che potrebbero prendere questa decisione importante. Restiamo sul Corriere della Sera, perché c'è una pagina molto interessante, una sorta di va da me, con tutto quello che c'è da sapere, da un punto di vista pratico, appunto in vista della riapertura delle scuole. Lo vedete, prima campanella, mezzi pubblici e test, quali sono le regole per tornare in classe? Anche qui vale la pena dare un'occhiata ad alcune delle domande più frequenti che i tanti genitori, le tante famiglie si stanno ponendo in queste ore. Ad esempio, per quando è prevista la riapertura della scuola? Quasi tutte le regioni hanno concordato con il governo la data del 14 settembre, con alcune eccezioni, Bolzano che parte il 7 e alcuni rinvii, come dicevamo prima. In Puglia, Calabria e Sardegna si tornerà in classe il 24 settembre. Anche il governatore della Campania, però, Vincenzo De Luca, ha minacciato di rinviare l'apertura dopo il voto. Si potranno usare mezzi pubblici? Sì, purché si indossi la mascherina. Il Comitato Tecnico Scientifico ha ammesso la possibilità di derogare al distanziamento, ampliando la capienza dei mezzi fino al 75%, a patto che i mezzi siano però dotati di filtri d'aria certificati e di, non meglio, specificati divisori in stoffa. Poi un'altra cosa, si dovrà ammettere la mascherina. L'unica cosa certa è che non dovranno indossare i bambini da 0 a 6 anni. Per tutti gli altri la mascherina è obbligatoria, ma dalle ultime indicazioni, almeno alle elementari, quando si è seduti al banco, se è garantito il metro di distanza, si potrà tenerla abbassata. Per una decisione definitiva bisognerà però aspettare il 31 agosto. E poi un'altra cosa, cosa succede se c'è un contagiato. Se un alunno o un docente risulta positivo al tampone scatta immediatamente il tracciamento dei suoi contatti stretti, ovvero di tutti coloro con i quali è stato insieme nelle ultime 48 ore. Spetta alla ASL valutare se mettere in quarantena tutta la classe o solo una parte per due settimane. E in quali casi potrebbe chiudere la scuola? Non è più previsto al momento un lockdown generale. A costringere la scuola a chiudere potrebbe essere la presenza di un focolaio nell'istituto, oppure la decisione di chiudere l'intero comune in caso di un aumento anomalo dei contagi. Ma ci sono poi anche molti altri punti che il Corriere della Sera chiarisce bene in questa sorta di dossier che trovate oggi sul giornale. Dal Corriere della Sera andiamo invece alla stampa. Non cambiamo però argomento. Come vedete, insegnanti fragili sarà esentato solo chi ha malattie gravi. Stretta contro il rischio, cattedre vuote, il comitato tecnico prepara una circolare per stabilire le regole e loro si difendono. Vogliamo lavorare ma essere protetti. Assunti anche 70 mila tra docenti e bidelli licenziabili in caso di nuovo lockdown. E poi vi segnalo un'intervista interessante al Ministro dell'Interno Lamorgese. Il titolo? Sbarchi e virus, il mio autunno caldo su una poltrona scomoda. E poi si parla di vari argomenti, tra cui la gestione dei migranti. Il Ministro risponde. Mi preme chiarire che sebbene ci siano tendenze in aumento degli sbarchi autonomi rispetto al 2019, i numeri attuali non rappresentano un'emergenza. Basta fare il raffronto con il 2011, l'anno delle primavere arabe, in cui arrivarono in Italia circa 30 mila tunisini, mentre ora ne sono giunti 8 mila dall'inizio dell'anno. Le difficoltà sono di carattere logistico legate alle misure di profilassi sanitari assabilite per il Covid. Poi ancora per settembre è stato impossibile spostare i seggi dalle scuole, ma prima del voto dell'anno prossimo troveremo altre sedi. La Ministra, che poi tocca anche altri argomenti interessanti in questa intervista che trovate su Repubblica. Dall'intervista alla Ministra dell'Interno, passiamo invece alla questione Sardegna, come qualcuno l'ha chiamata. Sardegna in campo, la Procura si indaga sui locali dei contagi, dal billionaire Alfibic, al vaglio i video delle feste, prime denunce ai sindacati, non c'era la percezione del pericolo. Nel Lazio, via i test per chi si imbarca a Civitavecchia, piano della protezione civile per il rientro dei turisti positivi. Andiamo ora sulla stampa. Anche qui l'argomento è quello del Covid. Con un'intervista, però anche questo interessante vaccino, entro l'anno l'Europa comprerà 1,5 miliardi di dosi. A parlare è la commissaria dell'Unione Europea, appunto alla salute, la cipriota Stella Chiriachides, che dice scuole riaperte in sicurezza, il ritorno sui banchi non scatenerà focolai, mascherine sono una scelta degli stati. Per evitare l'effetto cocktail tra influenza e Covid, invito i 27 ad avviare campagne di vaccinazione. Si parla quindi del vaccino, quello normale anti-influenzale che si fa da tanti e tanti anni. A questo punto torniamo sul Corriere della Sera e vediamo appunto come se la passano gli altri. Male ad esempio la Francia, come vedete. Macron che dice non escludo un nuovo lockdown, il capo dell'Eliseo e le misure per la crescita esponenziale del contagio. Abbiamo dovuto affrontare l'inaudito. Adesso serve molta umiltà, dice il Presidente francese, mentre l'Ungheria ritorna a chiudere le frontiere, la decisione del governo Orbán. Ancora sulla Francia e ancora sul Corriere della Sera. Qual è la situazione dei numeri? La Francia sfiora il suo picco. Oltre 7.000 casi in 24 ore. Timori sul rientro in classe, anche lì. Solo il primo aprile c'erano stati più positivi di ieri. A Parigi la mascherina diventa obbligatoria anche in strada e il Premier Castel reagire adesso, dice appunto il Premier, il primo ministro francese. Da Corriere della Sera andiamo su Repubblica invece perché affrontiamo un altro argomento, un'altra notizia. Andiamo negli Stati Uniti dove si è conclusa la convention repubblicana. È stato uno show praticamente di Trump, non solo di Trump ma di tutta la famiglia. Trump che nel suo discorso di accettazione si è scagliato contro Biden. Infatti vedete il titolo di Repubblica Trump contro Biden al via lo scontro finale. Chiuse le convention, la campagna per le presidenziali entra nel vivo, nel mirino gli stati in bilico come sempre. Il Presidente punta sull'ordine da mantenere lo sfidante sulla necessità di mettere fine alle divisioni. Fra i due campi non c'è solo rivalità politica ma anche reciproco, disprezzo, braccio di ferro anche sui dibattiti tv che però nell'era del web non sono più decisivi, scrive Repubblica. E a proposito di pugno di ferro, quello evocato dal Presidente Trump ieri nel suo discorso, vediamo anche però la risposta della piazza che è stata una risposta eccezionale, quella di Washington con la marcia dei 50.000, il grido di Washington, il sogno di King è vivo ma basta violenza, la marcia dei 50.000 per dire no al razzismo, 57 anni dopo il celebre I have a dream del reverendo, appunto Martin Luther King, ricordo 28 agosto 1963 fu un'altra manifestazione, fu una manifestazione storica che ha segnato proprio la storia degli Stati Uniti. È tutto per quanto riguarda la rassegna stampa, ora ci fermiamo per una breve pausa, poi la prima edizione del telegiornale. A tra poco. Grazie.